Guardami che forse non è stata vista la mia intervista ad una domanda rispetto a un'eventuale esclusione a ballottaggi, perché è evidente che noi puntiamo a vincere le elezioni in tutte le città, ho risposto che di fronte a nostra eventuale esclusione non escludo la possibilità di sostenere una candidatura a 5 Stelle, il punto è che noi siamo alternativi a 5 Stelle, siamo alternativi al partito democratico, siamo contro la destra che domenica era sul palco in piazza Bologna, siamo una forza autonoma che potrà dare alle città i migliori governi possibili, questo è il nostro punto.